Quali sono le linee guida che stanno alla base della proposta progettuale per l'area del Pantano? Lavorare con la natura significa soprattutto comprendere le linee di evoluzione della natura stessa. Questo nell'area Pantano è stato ben descritto dal piano dei siti Natura 2000, redatto dalla provincia di Reggio Calabria, e che ci ha consentito di elaborare una strategia che nello stesso tempo coniugasse in qualche maniera lo sviluppo di questa natura, ma anche la conservazione. Allora conservare, preservare queste pratterie umide non è facile. Bisogna avere un sistema tecnologico molto avanzato, una progettualità capace di interagire con quanto c'è già e soprattutto legarlo anche a un aspetto di gestione complessiva e di educazione ambientale, che questo sta alla base di ogni buona protezione dell'ambiente stesso.